L'indagine realizzata da Unione Industriale Biellese indica una maggiore prudenza sulle aspettative per l'inizio del nuovo anno. Continuano a crescere le previsioni di aumento dell'occupazione, mentre rimangono sostanzialmente stabili le aspettative sulla produzione, che registra il 19,3% rispetto al 26,6% del quarto trimestre 2021. Continua il trend in area positiva delle previsioni rispetto agli ordini totali, pari al 17,5%, e si raffreddano le aspettative per gli ordini esteri, scese al 4,7%. Si segnala inoltre il dato sulla redditività. Le attese per i primi tre mesi del 2022 sono negative, pari a meno 7%. A commentare l'indagine è Paolo Barberis Canonico, vicepresidente dell'Unione Industriale Biellese, con delega all'economia di impresa, sviluppo delle filiere e sostenibilità. Le previsioni per il 2022 scontano l'incidenza di fattori negativi, a rendere ancora più complesso il quadro previsivo dell'inizio del 2022, sono due ultimi elementi. In primo luogo, sul fronte del credito, cesseranno le moratorie concesse fino a quest'anno e si aprirà una nuova stagione in cui il dialogo con gli istituti bancari sarà fondamentale per non fare mancare al sistema industriale l'ossigeno necessario alla ripresa. In secondo luogo, siamo ancora in attesa di constatare le prime ricadute concrete delle azioni annunciate attraverso il PNRR, risorse preziosissime e attese da parte delle imprese per ripartire al meglio.